Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Bentornati carissimi al sesto episodio della storia sacra. Giacobbe in Egitto. La schiavitù degli ebrei. Giacobbe in Egitto. La carestia si fece sentire pure a Canaan, ove abitava la famiglia di Giuseppe. Ho sentito dire che in Egitto si vende grano, disse Giacobbe ai suoi figli. Andate dunque a comprarne per non morire di fame. Essi andarono e si prostrarono ai piedi del loro fratello senza riconoscerlo. Giuseppe invece li riconobbe e dovette fare un grande sforzo per non manifestarsi subito. Solo quando tornarono la seconda volta, non potendo più contenere l'emozione, il vicere esclamò. Io sono Giuseppe. È ancora vivo mio padre. I fratelli restarono senza parola. Ma Giuseppe li abbracciò teneramente a uno a uno. Poi ordinò loro di affrettarsi a portare la lieta notizia al padre e di condurlo in Egitto con tutta la famiglia, perché la carestia sarebbe durata ancora cinque anni. Giacobbe credette di sognare quando gli dissero che suo figlio viveva, ed esclamò, Andrò a vederlo prima di morire. Quando suo padre fu vicino, Giuseppe gli corse incontro e l'abbracciò, piangendo di gioia. Giacobbe visse in Egitto ancora diciassette anni. Prima di morire chiamò Giuseppe e gli disse Io muoio, ma Dio sarà con voi, e vi ricondurrà nella terra dei nostri padri. Poi benedì tutti i suoi figli e predisse l'avvenire di ciascuno. A Giuda disse Lo scettro non sarà tolto da Giuda, finché non venga colui che deve essere mandato il Messia, colui che sarà l'aspettato delle genti. Infatti, Gesù nascerà dalla tribù di Giuda. Ama i tuoi fratelli e la tua famiglia, come Giuseppe. Dio ti benedirà. La schiavitù degli ebrei I figli di Israele in Egitto si erano moltiplicati ed erano diventati un grande popolo. I faraoni, gelosi della loro potenza, li sottoposero a dura schiavitù e giunsero al punto di ordinare che tutti i loro maschi, appena nati, venissero buttati nel Nilo. Un grido di dolore si levò allora dai figli di Israele. Dio accolse quel grido e preparò al suo popolo la liberazione. In una famiglia era nato un bel maschietto. Non potendo nasconderlo più a lungo, la madre lo depose in un cesto e lo abbandonò sulle acque del fiume. La figlia del faraone scoprì il cesto, ebbe pietà del piccolo e lo fece allevare. Il bambino fu chiamato Mosè, che significa salvato dalle acque. Alla corte Mosè fu educato e istruito come un principe, ma il suo cuore soffriva nel vedere il popolo di Dio ridotto in schiavitù. Una volta udì un egiziano che insultava un ebreo. Ne fu così sdegnato che l'uccise. Un giorno, mentre pascolava il gregge, vide un rovetto che ardeva senza bruciare. Mosè, togliti i calzari, perché la terra che tu calpesti è santa. Poi continuò, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ho visto l'afflizione del mio popolo, e sono sceso a liberarlo dalle mani degli egiziani, per condurlo in una terra fertile e spaziosa. Va, dunque, dal Faraone, e digli di lasciare libero il mio popolo. Va, io sarò con te. Mosè chinò il capo e ubbidì. Gli occhi del Signore sono continuamente rivolti su coloro che lo temono. Sia lodato Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.